a quello io pensavo questo pensavo al secondo lì ma sai che questo io l'ho già provato quello non l'ho mai provato non mi ispira poi magari non mi ispira poi ma sei cotto sediti giù ma quando sei cotto non la tieni più eh intanto che non c'eri volevo approfittare hai fatto quel braccio lì? sì però al secondo lo faccio malissimo perché ti sbilancia questo sono tu lì qua guarda che sono stato qua ti va giù sì no con lì è bello da fare sta a discesa qua sì è meglio di questo è il canale praticamente punta al canale punta là punta il canale però tanti venite qua capottarti non puoi capottarti non coppii neanche l'importante è quando sei su poi ti te confusi l'ho mai l'ho più non non su si è arrivato su giusto a metà ti sei spostato di qua vedi? qua si è arrivato no secondo me è un po' corto anche cosa? eh sono andato corto e pac ho picchiato lì lo dà gli un po' di più un po' di più e esci fuori con la nuova alta si è quasi da saltar via la nuova alta no? eh beh però va beh ma scende giù l'importante è che butti dietro subito il culo perché qua si è giù eh non l'avevo mai provato perché non mi ispirava però si effettivamente non è malvagio comunque c'è la salita di qua e di qua c'è la discesa si c'è la discesa è bella ripida mi fa paura l'uscita prendilo di qua allora stai però prendilo di qua scendi qua che qua si è piatto grazie a tutti grazie a tutti c'è la parte più alta cazzo sai cosa lì perché so che lì c'è il vuoto e va bene dai facciamo che per oggi ci è andata bene due volte basta 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 ho giocato due jolly lì basta oggi o che arrivo su troppo piano però quello lì io non l'ho mai provato no mi sembra troppo a punta quello la non so mi sembra più basso meno a punta più ciccio questo qui cazzo va su e va giù però io avevo però oggi basta bravo ciao 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 ciao